Come funamboli, camminiamo in bilico sul baratro, affrontiamo le urla sguagliate, collezioniamo sconcesse come fossero figurine dell'album, solitiamo da lontano l'amico Mubara, ma si è raggiato nel castello, osserviamo da vicino la foto che mostra l'uomo alla vita del paese, mostrare a dieci canciulle le sue dosi meccaniche, anche quelle è un affitto. Involverita, impoverita, villaneggiata dal resto del mondo in vita, l'Italia con sfida nella saggetta di un vecchio presidente, ultimo garante di un tempo mai sguerito. Il tempo, il tempo dell'orecone e dell'omore, della dignità e del dovere. Il tempo in cui le donne, da solle, vedove di guerra o vedove di anche di uomini ingoiati dalla fatica del lavoro, crescerono quattro, sette, dieci figli e li mandavano a scuola, insegnavano loro ad aiutarsi a vicenda e a cavarsela da soli. La responsabilità, l'insegno e la fatica. Sono ancora qui quelle donne, sono qui i loro figli, ormai adulti, padri a loro volta. Non hanno tempo per la politica, alcuni o ne hanno distretto, pensano che passerà. Qualcuno, indebolito dalla chimera costante della fortuna del bingo, della corruzione e della fordizia, ha ceduto alla tentazione. Non sarà per sempre, però, è un'illusione e sarà duro il risveglio, durissimo per tutti. È a loro che ci dobbiamo rivolgere, non a chi già sa, a chi non ha potuto o voluto sentire. Alle ragazze che si restituiscono a scontare fuori strada, dobbiamo spiegare che possono, certo, se vogliono, ma che c'è anche un altro modo e l'imposente di vivere. Un modo che consente di lavorare anche a 40, a 50 e a 70 anni quando non ci sarà più nessuno a chieder loro di ballare. Dobbiamo mostrarglielo e dobbiamo pretendere che il governo che lo mostri e che lo renda possibile, che renda giustizia a chi preferisce di no, come preferirono di no alcuni grandi uomini e donne passate. Dobbiamo parlare a chi pensa, non li riguarda, a chi dice meglio un uomo oggi che una gallina domani. Dobbiamo preparare il domani, invece. Dobbiamo farlo per i bambini che oggi hanno 10 anni e di chi vogliamo vedere crescere i figli qui, in Italia, non vogliamo essere orfani dei nostri nipoti. Sveglia il nostro paese a chi ha più denaro per comprarle, no, non vogliamo questo. Dobbiamo, ciascuno che ne può, con i mezzi che ha, fare a nostra parte perché si è smaccherato il franello, così esplicato dalla propaganda che dice siete tutti uguali. Sono tutti uguali. Siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. È il franello che riduce il pensiero ad alcune sensazioni e che spazia le parole, mettendoci sopra, prima di ascoltarle, le etichette.